Registrazione. Dunque, benvenuti. Allora vediamo adesso stasera lo scripting in Unity. Scripting in Unity, quindi stasera lo vedremo. Mi hanno fatto presente diversi di voi che siete molto impegnati a fare altre cose. Quindi non inseriremo compiti da questa lezione, ma ci sarà il video che probabilmente nelle prossime settimane, quando avrete esaurito poi tutti gli impegni dell'Escape e magari anche il coronavirus, si spera, si scomincerà ad allentarsi un poco. Quindi cerchiamo un po' di vedere Unity. Allora, Unity stasera vedremo, allora questo è Unity, e qui vedete che c'è un programmino, una scena, in cui ho messo una serie di cubetti in cui ho messo delle texture. è una stupidaggine. Però era solo quello che volevo farvi vedere il risultato di dove si può arrivare con lo script di stasera. In pratica, facendo il play di questa scena, cosa succede? Che si vede un cubo in primo piano, che ce ne abbiamo proprio davanti. Ma a questo punto ci sono delle freccine nella tastiera, e praticamente io premendo la freccina in su, vedete che si alza di una certa frazione, e se faccio Q praticamente mi allontano, cioè praticamente, non mi allontano, sono i cubi che si allontanano, e invece Z i cubi si avvicinano, quindi tutti i cubi praticamente fanno le stesse cose. Frecce in su vanno in su, frecce in giù vanno in giù, a destra vanno a destra, e a sinistra vanno a sinistra. In realtà quello che si muove sono proprio tutti i cubi, e poi in più credo di aver messo anche la rotazione R, cioè se faccio R e se premo R, i cubi si mettono a ruotare. Quindi questo è semplicemente un modo per comandare la posizione dei cubi da programma. Quindi ogni volta che premo R si mettono a ruotare. In più, in questo script ho fatto anche una possibilità in cui se io clicco su un cubo, e lo tengo cliccato, il cubo praticamente si raddoppia le dimensioni. Non so se vedete l'effetto. Quindi questo è l'obiettivo. Prima di proseguire, volevo chiedervi se vi è tutto chiaro, il motivo per cui stiamo lavorando con gli script. Quindi gli script saranno per rendere interattivi una scena che altrimenti non lo sarebbe. Quindi io dico sempre in Second Life o in OpenSim, è bello progettare un ambiente, ma se non riusciamo a creare l'interattività, cioè il fatto di poter lavorare, far alzare, insomma fare il mago della situazione, cliccare, se non siamo in grado di fare questa operazione di controllo, ma nel senso di azione. Così come voi decidete di alzare l'abbraccio destro e lo alzate. Quindi sapete di avere una possibilità di gestione del vostro corpo. Ecco quindi che anche nel mondo 3D c'è la possibilità di gestire i vostri oggetti e fargli fare delle cose. Nel punto più alto delle gestioni si possono fare delle strutture molto sofisticate e molto complesse, che sono per esempio quelle che ho visto che state facendo, che avete fatto su Escape Room. C'è un'altra domanda innanzitutto su questo che è l'obiettivo, quindi l'obiettivo che voglio arrivare è questo, cioè insegnarvi a far muovere degli oggetti, adesso questi oggetti si muovono tutti insieme, in teoria si potrebbero poi far muovere separatamente. E l'obiettivo di questa lezione è quello di vedere come sono fatti gli script e come gestiamo gli script che pilotano questa cosa qua. Quindi c'è proprio un linguaggio di scripting, di programmazione e cercheremo di usare questo linguaggio. Allora, prima di entrare nel merito di Unity, volevo farvi vedere come appare lo script. Quindi io lo script in questo momento l'ho messo su un pastebin che se volete ve lo passo, quindi potete eventualmente anche vedervelo e volevo discuterlo un momento con voi. Quindi vi sto passando il link, vi è sufficiente che ve lo passo lì su sulla chat di gruppo di Zoom, cioè praticamente se voi cliccate questa cosa qua dovrebbe automaticamente aprirsi un tab con questo script. E questo script io lo andrei un attimino ad analizzare con voi. Quindi è uno script, vabbè, questo qui è uno script abbastanza lunghetto perché fa tutte le cose che mi hanno visto, quindi sono 72 righe. Ma per il momento io vi discuterei, diciamo, la prima parte, questa parte qua che vi faccio vedere qua. La domanda è in inglese queste sono due funzioni, quindi una si chiama cosa fare quando si preme il tasto, quindi quando il tasto del mouse viene schiacciato e cosa fare quando invece il tasto viene rilasciato, quindi on mouse down e on mouse up. Allora, questa funzione dice semplicemente che quando si schiaccia il tasto qualche cosa. Il linguaggio si chiama C Sharp. C Sharp è un linguaggio di lusso, diciamo, di quelli usati dai massimi programmatori, tipo Java per intendersi. Insomma, è un linguaggio molto diffuso, linguaggio creato da Microsoft, ma usato, diciamo. Ed è tra l'altro anche il linguaggio in cui è scritto OpenSIM. Cioè, tutto OpenSIM è scritto in C Sharp. In realtà la versione è mono, cioè la versione open source di C Sharp si chiama mono, quindi lo chiamano anche mono. Quindi il linguaggio di programmazione è C Sharp, che però in molti linguaggi lo chiamano anche mono. Ok? Quindi questo è il nome del linguaggio. Allora, il linguaggio è ispirato dal C. Adesso farvi proprio tutta la teoria dei linguaggi di programmazione è un po' un casino. Ma, soprattutto per il tempo che mi ho a disposizione, perché di solito ci si impiegano dei mesi, la cosa fondamentale è che tutti i linguaggi sono caratterizzati dal fatto di avere la descrizione di un insieme di azioni, di cose da farsi, un po' come la lista della spesa, no? Nel senso che qui, ad esempio, la cosa che si dice è che se per caso tu premi il mouse, allora devi fare ciò che c'è scritto dentro la cosa dopo. Quindi, praticamente, qui c'è scritto un evento, quindi quando succede l'evento che si chiama in quel modo, allora tu devi fare quello che c'è nelle parentesi graffe successive. Avete notato che anche in Second Life si usano le parentesi graffe e si usano le parentesi graffe per indicare l'inizio e la fine di un'azione, quindi tipo start ed end di un'azione. Quindi qui si definisce un evento che si chiama onMouseDown. Questo evento si dice aperta-chiusa, vuol dire che non gli arrivano delle informazioni del mondo esterno, cioè l'unica informazione che gli arriva è che è stato premuto il mouse. Però, per esempio, ci possono essere dei casi in cui c'è un evento in cui, se, non so, quanti di voi hanno visto la, come si dice, i visori in realtà virtuale? Tipo l'HTC Vive o il, come si chiama, l'Oculus Go. Non Go, anche il Go comunque c'ha. Il Go c'è proprio una, cioè se voi vedete il, vediamo un po', l'Oculus Go. Per esempio l'Oculus Go perché è il più semplice, costa abbastanza poco, no? Vedete che l'Oculus Go c'ha praticamente, c'è l'Oculus, che è quello con cui vedete, e poi c'ha questo che viene chiamato il controller. Vedete che è formato fondamentalmente da uno, due tasti, che si comportano come tasti, e poi c'ha questa cosa qua, la vedete, che in realtà è una specie di touchpad, no? Avete presente il touchpad come funziona? No? Il touchpad praticamente con la, che tanto si comporta anche come bottone, nel senso che potete cliccarlo alle due estremità, qua o qua, o anche in qualunque punto, oppure potete mettere, potete indicare in che direzione, se è una direzione, quindi poter, se viene usato questo oggettino viene usato anche per muoversi in realtà virtuale. E quindi quando si tocca questo oggetto, si dà un input all'evento che può essere il punto in cui si è toccato. Allora, quindi in questo caso, essendo una superficie bidimensionale, secondo voi quanti dati darà al programma, quando per sapere dove ha toccato? Una domanda per matematici, quindi... Non so se... Come si fa a sapere le coordinate del punto in uno spazio, in uno piano in cui, in quel cerchio lì in cui ha toccato? Darà probabilmente due numeri. Darà un numero e quindi indicerà se ha toccato, se due numeri, esatto, quindi sono le coordinate x e y del punto in cui lo avrà toccato. Quindi in alcuni casi complessi, quello che accadrà è che, torniamo sul nostro programmino, che era qua, in alcuni casi, invece di dire on mouse down, uno potrà dire on trackpad e poi gli si arriveranno qua le due coordinate x e y, dove lui avrà toccato, e quindi noi potremmo decidere in funzione di quelle coordinate di fare una cosa o l'altra. Per stasera invece noi rimaniamo semplici, cioè abbiamo degli eventi che non hanno nessun input, cioè che l'unico input è il fatto che siano eccitati, e il void vuol dire semplicemente che non hanno nessun effetto ulteriore, nel senso che questa funzione fa tutto ciò che deve fare, la fa qua dentro e fine. Quindi void vuol dire vuoto, cioè questo void è molto simile a questa aperta, chiusa parentesi. Quindi voi vedete questa come una sintassi molto semplice, per dire che qui c'è semplicemente un metodo, si chiama, che viene chiamato sotto determinate situazioni, il cui unico obiettivo è di dirgli di fare delle cose. Quindi gli dico, quando avviene quel metodo esauriamo queste informazioni. Cose simili esistono anche nel linguaggio di scripting di Second Life, in cui si creano proprio degli eventi, tipo listen, quando gli arriva qualcuno parla, oppure quando qualcuno chiaccia col mouse. Ecco, questo qui a tutti gli effetti è uguale al, come si chiama sull'LSL, il metodo corrispondente. Andiamo un po', se qualcuno se lo ricorda. Andiamo, vi sentite, no? C'è qualcuno che ha fatto scripting qui con... No, non è l'etouch. Sì, però comunque evagrai per... Ecco, touch start. Ecco, il touch start è quando tu cominci a premere, ma anche nel linguaggio di scripting c'è il touch end, che è quando tu hai finito di premere, cioè rilasci il cursore. Di solito negli script si usa solo touch start, quindi questo on mouth down equivale a dire touch start, per chi sa usare gli script di Second Life. Ok? Ora, poi quello che succede sotto, ed è qui che abbiamo la cosa interessante, abbiamo una cosa che si chiama transform. Ora, transform... No, ma va bene. C'è, per un intanto, Eva, hai detto che tu di scripting sei a zero, invece mi stai dimostrando che qualcosa sai. Allora, transform è una delle caratteristiche dell'oggetto in cui lo script... Cioè, praticamente questo script che vedete viene messo dentro un oggetto. E quell'oggetto in Unity, ogni oggetto è definito da una serie di parametri, no? e alcuni di questi parametri sono associati alla mesh, quindi qual è la mesh, cioè come appare, cioè come appare tipo Blender, e c'è un parametro che si chiama transform che contiene alcune caratteristiche che sono... Allora, intanto contiene la posizione, quindi probabilmente si dirà proprio transform.x, indica la posizione x, transform.y indicherà la y, che cioè l'altezza. Tanto voi lo sapete, è vero, che in Unity x, y, z sono diversi dall'xyz di Second Life, vero? Cioè, mentre in Second Life x è, mi sembra, il fronte avanti e indietro e y è sinistro-destra, lo z, invece, è alto e in basso, no? Quindi lo z è app, no? Invece, in Unity, la cosa interessante è che x e z sono le due cose orizzontali, no? Sul piano, mentre diventa y app. Infatti, in alcuni plugin che fanno l'export fbx, eccetera, tra i parametri c'è anche uno che dice se è z app oppure se è y app, non so se avete mai notato i parametri di Blender, degli sporter. Quindi, la cosa da fondamentale, da sapere, è che Unity funziona con la convenzione che y è app. ma la stessa cosa è anche in Minecraft. Funziona esattamente con la stessa convenzione. Tutti i giochi funzionano con questa convenzione, Second Life invece no. Second Life e OpenSim funziona con la convenzione che è in z app. in realtà anche Blender, è fatto come Second Life, quindi anche in Blender z è app. Quindi, come vedete, abbiamo già un dialetto, tanto per complicare le cose. Cos'è che ti pare più logico lo z app? Vabbè, dipende da con chi parli, nel senso che in realtà secondo alcuni è più logico lo z app perché le x e y sono le coordinate tipicamente associate a un foglio di carta e se voi appoggiate il foglio per terra, cioè su una scrivania, le x e y sono sul piano e poi il... Ah, beh, si intuici che in geometria il z. Comunque, comunque scusate se vi sto tediando con questa cosa dell'xy, ma era solo per... perché così almeno sapete sapete che c'è questa fisima di Unity ma che in realtà è una cosa importante, ok? Allora, quindi, cosa vuol dire che voi don't mouse down local scale max? Allora, local scale, la scale invece vuol dire quali sono le dimensioni dell'oggetto. E se andiamo a vedere, qui gli mettiamo il max, dove il max è un vettore, un vector di tre. Allora, vector di tre qui vuol dire semplicemente che è un'entità che ha tre numeri dentro. Ed è rappresentata appunto un vector, cioè vector praticamente è una struttura, no? Tipo avere n elementi, qui diciamo che ne ha tre in particolare. è questa roba che chiamiamo... Quindi qui cosa stiamo dicendo? Stiamo battezzando una cosa che si chiama min che è di tipo vector 3, cioè vuol dire che dentro ci finiscono soltanto dei numerelli a tre valori, e il suo valore iniziale è proprio un new, cioè quindi creiamo da zero un vector 3 che ha dentro le coordinate x, y, z. Quindi ne mettiamo una roba che è lunga un metro, è alta un metro, perché la y vuol dire la seconda è un metro, ed è profonda un metro. Invece max, battezziamo una cosa che chiamiamo max, che diciamo che invece è la stessa cosa che però ha le dimensioni di due metri, per due metri, per due metri. E' chiaro questa definizione come funziona? Cioè mi seguite? Intanto spero di non essere troppo unioso, però visto che poi tutte queste cose qua mi dicono tutti che bisogna essere anche un pochino, non dico precisissimi, ma un pochino fiscali, non farvi vedere la sintassi, perché poi tutti vi dimenticate come si scrive. Quindi adesso vedete che noi abbiamo tutta una serie di cosette tipo il punto e virgola, se notate il punto e virgola è in fondo a tutte le istruzioni, tutte le istruzioni complete. Quindi questa qui è un battesimo di un qualche cosa min che ha un certo valore dentro, e quindi è finita. Pubblico ve lo spiego fra un attimo. Questo battezza un qualche cosa che si chiama speed, che ha il valore 10, ed è di tipo float. Allora float vuol dire che è un numero in virgola frutto. Float in inglese vuol dire virgola fruttuante, floating point, anzi loro dicono point. Quindi deriva da floating point. Float in inglese vuol dire numero in virgola mobile, perché sapete che si scrive normalmente in matematica 1.2 per 10 alla 9, elevato a 9. Non lo trovo. Comunque. Io sto parlando, sto parlando, sto parlando in effetti. Sto parlando e mi sentono. Forse devi rientrare. Oppure comunque per il tipo di difficoltà che facciamo adesso non è... Cioè, fin qua ci siete? Mi state seguendo tutti sul discorso che sto facendo della sintassi? Spero che la registrazione... Allora, quello che stiamo dicendo adesso è che noi battezziamo un qualche cosa che diciamo minimo, che sono delle dimensioni minime, e un qualche cosa che diciamo dimensioni massime, perché poi cosa vogliamo fare? Vogliamo dire che quando clicchiamo il mouse, le sue dimensioni vengano massimizzate. Cioè, transform.localscale.localscale.localscale vuol dire proprio le sue dimensioni. Cioè, le sue dimensioni vuol dire che quanto è lungo, largo e alto. E quindi dobbiamo dargli tre numeri, no? Tre numeri li possiamo dare semplicemente specificando un qualche cosa che abbiamo battezzato qua, una variabile. Le variabili sono delle cose che possono variare durante punto variabile, vuol dire variare. All'inizio questa variabile viene impostata un valore, e poi quando clicchiamo il mouse, diciamo che vogliamo fare il cubo grande max, e cioè due metri per due per due. Se vi ricordate, se torniamo qua, abbiamo questo cubo che normalmente è uno per uno per uno. Se io lo clicco, vedete che è diventato il doppio, no? Se io lascio il mouse, lo ritorna piccolo. Questo, questo, ok? Non so se vi sembra, diciamo, logico, no? Quindi questo è il significato di aver trasformato transform.localscale. Quindi lo mettiamo massimo quando clicchiamo il mouse, e lo mettiamo al minimo quando lasciamo il mouse. Poi invece abbiamo, quindi questa è la spiegazione di questa cosa qua. Poi abbiamo invece un evento che è questo, che succede, questo succede sempre, c'è un evento che si chiama update, in tutti i videogame. C'è sempre un metodo che si chiama update, e viene chiamato n volte al secondo, cioè praticamente ogni scena di un videogame viene costruita da un disegno che viene disegnato ogni volta che appare un rinfresco del video, che avviene, diciamo, dalle 30 alle 90 volte al secondo. Quindi questo update qua viene chiamato 60 volte al secondo. Ok? O 30, insomma, secondo delle capacità del cellulare, piuttosto che del computer. Quindi un computer potrebbe essere chiamato più spesso, un altro un po' meno spesso. Allora, la cosa che è interessante, è che quando viene chiamato questa cosa qua, io posso domandarmi se ho premuto un tasto. Allora qui c'è una bellissima, una bellissima funzioncina che si chiama input, perché è un dato di input, e quindi mi chiedo se è stato premuto un tasto, che in questo caso è left arrow. Quindi se qualcuno mi ha chiamato, cioè mentre sta funzionando il gioco, ho premuto la freccia sinistra, cosa devo fare? Devo prendermi la posizione iniziale del mio oggetto, che quindi prendo this, che this in inglese vuol dire questo, prendo il transform e prendo la position. Quindi this transform.position è la posizione che è una tripletta di numeri, x, y, z. Quindi questa posizione, diminuisco la x, quindi lo metto, lo sposto a sinistra, perché la x è praticamente sinistra e destra di unity. Quindi invece y è il alto-basso e lo z, invece, è il vicino lontano, cioè il mio vicino e il mio lontano. Quindi qui, nel momento in cui premo la freccina a sinistra, devo metterla a sinistra e quindi devo togliergli, cioè la x deve diminuirla e la faccio diminuire di un fattore speed, che era quel numerello famoso, quindi ogni volta che lo vede lo fa diminuire in 10 posizioni. E poi questa posizione che ho calcolato, la rimetto dentro di transform position, uguale position, quindi prendo la posizione originale, altero questa posizione e la rimetto dentro la posizione dell'oggetto. Quindi di fatto muovo l'oggetto. Questo qui equivale a muovere l'oggetto. Quindi praticamente left arrow, praticamente cosa fa? Modifica la posizione x, forse a sinistra, right arrow modifica sempre la posizione x, meno uguale vuol dire semplicemente sottrarre alla posizione precedente e più uguale vuol dire aggiungere la posizione precedente. È una convenzione, diciamo, degli informatici 10++. Cosa abbiamo poi? L'up e down per modificare la y, perché abbiamo visto che l'up è la y, quindi se facciamo up dobbiamo aggiungere qualcosa alla y, down, dobbiamo togliere qualcosa alla y, vedete che è sempre tutto uguale. Poi ho messo ancora, mi servivano ancora due tasti per indicare se dovevo spostare la z, quindi se avvicinare o allontanare. Quindi ho deciso che il tasto q allontanava, quindi adesso non mi ricordo se allontanava o avvicinava, comunque sono di due, la z, quindi incrementava la z e la z invece l'allontanava e poi in più ho messo un tasto, ah qui ho messo anche uno z di troppo, questo che non c'entra, un r, che semplicemente aggiungeva invece, faceva ruotare di una certa rotazione attorno alla y, quindi faceva una rotazione del cosa. Quindi in pratica questo script l'unica cosa che fa è, a seconda dei tasti che premo o a seconda del mouse che clicco. Sento qualcuno che parla, vediamo forse, ah siamo già in 15. Aspettiamo che, allora, muto tutti, giusto, perché così non abbiamo disturbi. Scrivete pure in chat e ditemi se la teoria di questo script vi è chiara per questa cosa che abbiamo visto oppure no. I tasti li ho inventati io qua, ci potrei aver messo qualunque altra cosa, avrei potuto dire che premendo uno si muoveva in un modo, due si muoveva in un altro, eccetera. e il mestiere del, allora, nella tastiera con il visore non ci sono i tasti, sì, c'è molte somiglianze, insomma. Dunque, non ci sono i tasti, ma ci sono i controllori, i controllers, che hanno praticamente una cosa equivalente, quindi i controller hanno il grilletto che diventa un tasto che si può vedere se è premuto, ci hanno un grilletto laterale che è anche quello si può premere, ci hanno diversi tasti, l'Oculus, ad esempio, c'ha sul controller destro, anzi, magari ve lo faccio vedere, allora, questo... Aspetta, sto insegnando. No, sono delle funzioni diverse che chiamate per poter ottenere quella funzionalità. Cioè, il punto è che voi avete diverse funzionalità che vi permettono di leggere, diciamo, dei dati, quindi non è detto che voi dobbiate per forza usare questa funzione, potete usare delle altre funzioni che vi rendono disponibili e che vi permettono di vedere se è stato premuto un tasto di tipo X o di tipo Y. Cioè, quello che voglio disegnare adesso non è tanto la soluzione universale alla VR, che poi lo vediamo dopo, ma è il concetto che voi chiamate un qualche cosa, che in questo caso abbiamo un semplicemente una IF, no? Durante l'update vi chiedete semplicemente se è valida questa cosa. se è valida allora lui fa una certa cosa. Però ci possono essere delle funzioni, ad esempio nel VR per capire se andare a destra o a sinistra si vede anche come è emesso ad esempio il visore e il visore vi torna delle informazioni di posizione che sono una doppia coppia, anzi sono una tripletta. Cioè, il visore vi dice lui qual è la sua posizione e voi potete intervistare questa posizione o anche la posizione del mouse, cioè dei controller, e lavorarci. Quindi qua quello che fa questo script è semplicemente di prendere i tastini che premiamo e di cercare di farli vedere all'interno della cosa, ok? Della scena che ve li fa... Ok, dopo tutta questa lunghissima esposizione andiamo e poi adesso vi devo ancora spiegare un pochino queste ultime pezze che non abbiamo visto però andiamo da zero quindi cosa facciamo? Andiamo sul nostro Unity e qui creiamo una scena nuova quindi prendiamo andiamo sotto le scene qua e qui facciamo una... creiamo una scena nuova che equivale a fare praticamente un livello di gioco quindi facciamo corso corso script unity e in questo corso script unity andiamo e vedete che la scena nasce vuota quindi nel momento in cui la scena nasce vuota noi dobbiamo metterci dentro un oggetto e l'oggetto che possiamo metterci è un game object quindi facciamo game object 3D object e prendiamo un cubo e vedete che ci ha fatto il cubo il cubo famosissimo cubo che sappiamo fare in Second Life e in tutte in tutti gli altri posti compreso Minecraft anche in Minecraft ci si basa sul cubo ora questo è il cubo magari ecco qualcuno prima mi diceva come faccio a fare il pavimento quello che vedete qua che tra l'altro facciamo un ripassino quindi per se voi prendete alt e poi muovete il mouse potete orbitare questo è un pochino diverso Second Life quella specie di pavimento che vedete in realtà è solo un riferimento un righello che vi da ma non c'è realmente quindi se voi veramente volete avere un pavimento dovete costruirlo voi quindi come fate fate game object 3D object andate su piano vi create questo piano qua lo mettete un pochino qua così e poi questo qui potete andare con il scale tool questo e potete ingrandirlo a piacimento e poi lì dentro potete mettervi una texture allora abbiamo visto la volta scorsa che per mettere una texture si può cercare una texture tipo pavimento texture vediamo un po' se ce la facciamo per esempio prendiamo una cosa di questo tipo questa si ah un rar open ah ci abbiamo varie cose serie pavimentazione esterna e questo allora noi dobbiamo andare praticamente a prendere questo se volessimo prendere questo pavimento questo qui non è che mi piaccia molto ah sono pavimenti fatti così ah questo qua per esempio supponiamo di voler prendere questo pavimento che è un po' grigio ma è giusto per darvi l'idea che è il 015 il 015 dobbiamo andare a metterlo nella nostra scena quindi come facciamo ad andarlo a metterlo nella nostra scena andiamo entro Unity andiamo qui dove siamo nel per dire qua siamo nelle scene e supponiamo di voler mettercelo qua quindi facciamo un show in explorer che su Mac tra l'altro suona come show in finder e quindi abbiamo praticamente qui le dove abbiamo le cose che abbiamo visto qua e poi se vogliamo metterci qua quel pavimentino dobbiamo prendere cos'era il 15 e lo trasciniamo semplicemente andiamo un po' ok vedete che qui è comparso una serie di pavimentazioni esterne quindi jpeg noi andiamo sul nostro sul nostro Unity che era aperto qua e dovremmo vedere in teoria il dovrebbe averlo preso ma forse la prima era qua serie di pavimentazioni qua ora il posto poi adesso lo sto mettendo un po' caso in realtà bisognerebbe fare proprio una cartella apposta per questa però era giusto per farvi vedere che potete importare dei disegni semplicemente con questo sistema vi è chiaro questo sistema di import che ho fatto cioè praticamente sono andato sullo Shown Explorer e poi quando si è aperta la finestrella lì dentro ci ho trascinato l'oggetto ora questo pavimento lo possiamo trascinarlo così e vedete che abbiamo il nostro pavimento messo questo l'abbiamo visto prima e parallelamente possiamo anche mettere un'altra texture su questo quindi abbiamo questa rosa possiamo mettere la rosa sul cubo ok ora una volta tra l'altro qui vedete che c'è una luce questa che illumina che viene da quella parte là però se volete illuminare anche il cubo con anche da dietro dovete eventualmente mettere un'altra luce quindi da qui potete fare un duplicate vedete che qui è fatto una luce doppia e poi la si potete muovere tra l'altro la luce dovrebbe avere anche l'intensity quindi qui possiamo mettere l'intensità più bassa e poi qui possiamo muoverla qui vedete che proprio nell'inspector nella luce c'è il colore della luce e potete dire anche che la seconda luce ad esempio c'è un colore diverso che è il colore di questo poi ce la spostiamo magari un pochino vedete sono due lampade e poi questa la possiamo ruotare con questo sistemino in modo tale da illuminare anche in maniera leggermente diversa quindi questa ok quindi questa avrei voluto fare forse dobbiamo farla un pochino più luminosa 0,5 ok così illuminiamo praticamente anche il retro dunque i materiali li potete e li dovete fare normalmente però qualcuno mi aveva fatto osservare la volta scorsa che trascinando l'immagine direttamente sull'oggetto lui genera automaticamente di suo i materiali cioè crea una cartella materials dove siete e dentro questa cartella lui ha generato implicitamente il materiale quindi lo faccio perché proprio imparo anch'io da voi quindi sei tu che mi hai insegnato questa cosa ma questa cosa serve soltanto per poter diciamo avere una visuale un pochino più interessante e a questo punto vediamo un po' la magia la magia cosa vuol dire aggiungere uno script a questo cubo quindi per aggiungere uno script a un cubo cosa bisogna fare? bisogna selezionare il cubo e poi andiamo sulla parte dell'inspector in fondo e vedete che abbiamo un add component qui c'è un sacco di cose vi ho detto vero che ogni elemento ha le sue caratteristiche e una di queste caratteristiche se ci fate caso è proprio il transform e il transform c'è la position la rotation e la scale l'abbiamo visto vero? questa cosa qua ora per aggiungere uno script occorre aggiungere un component e vedremo nelle settimane prossime nei mesi prossimi che aggiungere un componente è una delle attività più importanti che si fa in unity perché si aggiungono cioè anche questi sono dei component quindi il mesh filter è un component anche lo stesso transform è un component però gli script in particolare quindi noi vogliamo introdurre che cosa? un allora qui ci sono varie varie cose però c'è la possibilità di fare new script ed è che io posso fare la ricerca faccio new script e quando faccio new script qui gli dico corso invio e lui dovrebbe aver creato questo corso non lo vedo aspetta facciamo add component dovrebbe aver creato no aspetta forse ho svegliato qualcosa ah create and add ok corso create and add quindi lui nel momento in cui ho fatto questa cosa qua lui ha praticamente mi apre la finestrella con il con quello che è later anzi facciamo una cosa perché qui già mi ha fatto touch cs no torniamo qua e non raggiunge il corso corso ah sì me lo sto aggiungendo lì quindi l'ho aggiunto due volte e un po' se riesco a capire come si fa cancellare il corso uno script di troppo facciamo facciamo eh non mi ricordo già più vabbè disabilitiamo questa cosa qua poi lo troverò comunque il corso è questo e per modificare il corso dovrebbe essere sufficiente fare click qua doppio click e lui mi apre praticamente lo script magari lo rifacciamo un secondo con un con uno script diverso con un oggetto diverso perché qui si è visto un po' male quindi prendiamo creiamo un altro di cubo ok questo qui magari lo cancelliamo un secondo e creiamo un altro oggettino che sarà un cubo ok e poi in questo cubo ci rimettiamo il suo disegnino in questo caso la rosa ok e adesso ci facciamo un add component e qui vedete che c'era già il corso che abbiamo fatto prima ma ne creiamo un altro diciamo corso cubo rosa lo chiamiamo facciamo create and add eccolo vedete che è comparso una roba che si chiama cubo rosa script e a questo punto facendo doppio clic qua dentro ci si apre l'editor e qui vedete che abbiamo una classe cubo rosa e qui già c'è un errore perché tutti gli script devono iniziare con la c maiuscola con la lettera iniziale maiuscola e quindi non va bene non va bene questa cosa non riuscirò mai a capire come no dove cubo rosa questo ah remove component ok togliamo questo questo cosa qua e facciamo in plenissima volta un new script e questo new script facciamo cubo nuovo cubo rosa ok ok nuovo cubo rosa e a questo punto se noi andiamo qua dentro vedete che abbiamo effettivamente tutto a posto ok guardate che torno un attimo a vedere se per caso mi parlate chat ci sono già due due cose sì bravi ma mi è sfuggito grazie remove non avevamo trovato grazie Annalisa ora abbiamo lo script nella sua forma nella sua forma più semplice questo è lo script più elementare che si può fare ok allora la lezione di stasera la terremo molto breve quindi aggiungerò soltanto il mouse up e il mouse down poi per lo spostamento poi lo vedrete poi eventualmente a casa oppure fra un paio di settimane lo rivediamo meglio ma comunque i concetti sono sempre gli stessi allora noi vogliamo adesso lo start vuol dire cosa deve fare lo script quando parte e c'è anche in second life e poi l'update e cosa deve fare man mano che viene approfittato il frame ma noi invece vogliamo fare una on mouse app vedete se scrivo on mouse lui mi fa vedere automaticamente on mouse down questo è il primo e mi genera lui da solo tutte le graffe le tonde eccetera che sono necessarie quindi io non mi devo domandare che cosa fare e poi faccio transform allora diciamo che quando faccio il mouse down faccio il transform punto local scrivo local scale che è questo e qui gli facciamo semplicemente un new vector3 quindi mi hanno detto che quando quando lo clicco voglio scrivere voglio che diventi dimensioni per esempio 2x2x2 e basta così lui tra l'altro me lo formato automaticamente faccio ctrl s per salvarlo e lo script è già pronto quindi questo cosa fa quando clicco lui me lo porta a dimensioni 2 è un minimo questa cosa qua volendo possiamo anche toglierla cioè lo start e l'update beh l'update servirebbe poi se vogliamo farlo pilotare con i tasti funzione ma adesso noi quindi ci otteniamo solo per quello quindi se noi va bene questo andiamo sul nostro oggetto questo in cui gli abbiamo messo lo script che era nuovo cubo rosa che è lo script e quindi facciamo allora intanto vediamo cosa vedrebbe la telecamera la telecamera vedete che ci vede da dietro se non ci piace come vede la telecamera possiamo muoverla e qui c'è la la possibilità insomma di avvicinarla quindi avviciniamo un pochino ok e se facciamo il play di questa scena quindi facendo il play di questa scena abbiamo il bel cubetto davanti e se noi facciamo click vedete che si è ingrandito ma poi rimane grande quindi qual è il nostro obiettivo è di fare in modo tale che rimanga grande solo affinché lo premo ma poi quando rilascio il mouse torno di piccolo vi è chiaro questo scriptino quindi qui facciamo togliamo il play e andiamo a vedere questo che è il nostro script quindi questo è lo script come vi sembra questo scriptino qua mi sembra sembra semplice da da comprendere sì allora se io voglio che questo oggettino ok ciao Lucia buonanotte se io voglio che quando lascio il mouse il cubo torni a essere piccolo devo fare una on mouse app che vuol dire che quando quando tiro su il mouse vedete che ho scritto solo on mouse app invio ma ho messo le maio tutte le minuscole parentesi void e tutto il resto e poi qui devo scrivere semplicemente transform.localScale uguale new vector 3 e 1 1 1 punto virgola ok vedete che finché non ho messo il punto e virgola lui mi fa vedere un un errore vedete che c'è questo cosa rosso che dice che manca un punto e virgola e quindi gli ometto quindi quando ho messo questa cosa qua se faccio girare se faccio girare a questo punto il mio gioco faccio click e grande lascio e torna piccolo click e lascio click e lascio come vi sembra? vi sembra comprensibile quello che stiamo facendo? sì quindi abbiamo semplicemente fatto un metodo che dice cosa fare quando clicchiamo e cosa fare quando lasciamo il mouse e poi c'erano quelle cose che diciamo prima che sono tutti gli update in cui vediamo se if input punto aspettate che non mi ricordo mica memoria sta roba qua ecco perché quindi abbiamo detto che facevamo get key get key e quindi facciamo if input get key poi facciamo key punto no non era key punto non era get key in memoria get key code punto left arrow quindi get code get code punto vedete qui mi dà tutte le possibilità quindi se io voglio che faccia una cosa quando premo la A in questo caso gli dico quando premo la A quindi if input get key key di quella cosa lì niente semplicemente così allora gli dico la if prima quindi if input get key vedete che dobbiamo metterci le parentesi per definire dove inizia quindi ogni if vuole una parentesi di apertura e una parentesi di chiusura e poi la graffa per dirgli cosa deve fare quindi se io premo la A ad esempio gli dico di fare transform punto position punto e gli diciamo che la facciamo salire quindi per farlo salire cos'è secondo voi quale fra x y z devo mettere devo cambiare vediamo se siete stati attenti a tutta la disquisizione la y qui facciamo y e qui possiamo metterci vediamo possiamo mettere più o uguale a 10 ad esempio così gli diciamo che quando premo la dovrebbe salire di un certo intervallo di tempo 10 di pixel quindi facciamo dunque ah non è possibile perché non è una variabile infatti dobbiamo prenderlo quindi come abbiamo fatto prima quindi dobbiamo fare vediamo come abbiamo fatto nel nostro cosino quindi abbiamo preso un vector abbiamo preso la posizione quindi facciamo vector 3 current uguale transform position quindi prendiamo la sua posizione attuale facciamo current punto y più uguale 10 e poi infine diciamo transform punto position uguale current vediamo un po' se questo ce lo fa fare sembra di sì quindi facendo così vuol dire che ogni volta che premo la mentre tengo premuto la lui aumenta le y di 10 quindi noi cosa facciamo andiamo dentro il nostro giochino facciamo il play e proviamo a fare a adesso è andato su è scappato perché vuol dire che 10 è troppo no? quindi lo sospendiamo un attimo torniamo al nostro script vedete che qui in realtà ci ha aperto due finestre una con unity e una con questa che è visual studio dove noi possiamo lavorare quindi al posto di 10 gli mettiamo 1 quindi la y la aumentiamo di 1 e non di 10 e proviamo a vedere l'effetto che fa quindi sempre è sempre un trial and error no? qui facciamo qua facciamo A ah avete è andato su ma di un metro appunto quindi probabilmente dobbiamo dirgli di andare su di 10 centimetri no? e quindi stoppiamo andiamo di nuovo e gli diciamo 0.1 e poi riproviamo e vediamo com'è andato allora qui c'è un errore vedete che mi ha detto un errore c'è un errore perché c'è un errore perché io gli ho detto ah perché dice che non è possibile convertire il tipo double in float quindi vuol dire che dobbiamo metterci un float questa cosa qua purtroppo questa è un oppure addirittura aspetta mi sembra che si possa fare 0.1f sì no? allora era float e basta queste sono così è sparito il rosso quindi avendo messo più uguale float e 0.1 perché il 0.1 deve essere un float se facciamo ripartire il nostro programmino e facciamo a vedete che è ancora troppo perché appunto viene chiamato spesso quindi quello che dobbiamo fare è di metterlo ancora di meno 0.0.1 tac vedete che adesso si alza in maniera più sofisticata più tranquilla quindi questo è semplicemente un un primissimo diciamo visual studio serve per costruire per fare coding in C sharp tipicamente esattamente come Xcode su Mac serve per fare il coding in altri linguaggi tipici di Mac e serve proprio per programmare quindi serve per poter scrivere questi programmi qua in realtà non è estrettamente essenziale purtroppo però Unity se lo scarica tutto la cosa tra l'altro notate che quando io clicco su un oggetto e poi vado a vedere il suo script vedete che qui c'è uno script che è associato qua dentro lo clicco vedete che nel momento in cui lo clicco mi diventa giallo per trovarlo qua e nel momento in cui clicco lo script mi fa vedere lo script qua quindi io sono in grado allora Godot lavora normalmente in un linguaggio che è una specie di Python però si può lavorare in Godot anche col C Sharp l'altra volta non ve l'ho fatto vedere perché era cioè quindi questo linguaggio che stiamo vedendo adesso si può utilizzare anche su Godot diciamo che il C Sharp è diventato un un linguaggio che funziona un po' ovunque cambiano alcune cose ma fondamentalmente le sue caratteristiche Python invece è il linguaggio con cui si scrive in Blender quindi riassumendo quello che è interessante è vedere allora questo lo rivediamo quindi i programmi in C Sharp hanno all'inizio tutta una serie di using che dicono praticamente quali sono le funzioni le librerie che usano e noi in realtà ne usiamo una sola di librerie vedete che questo qui è in bianco e queste sono in grigetto vuol dire che queste non sono utilizzate possiamo anche toglierle volendo usiamo le Unity Engine quindi noi usiamo tutta l'intelligenza che ha Unity che si chiama appunto il motore Unity noi abbiamo creato un programma nostro che si chiama Nuovo Cuburosa notate che deve iniziare con la N maiuscola tra l'altro notate che il nome del programma che c'è il nome del file deve essere esattamente quello quindi se voi create un file che si chiama script e dentro c'è public class Nuovo Cuburosa vi dà errore quindi se noi qua ad esempio gli mettiamo Nuovo Cuburosa 1 poi lui si arrabbia cioè si arrabbierà non riuscirà a trovarlo perché infatti dice vedete che ci compare un errore qua e mostra possibili correzioni dice si rinomina il tutto il file il nuovo Cuburosa 1 ma noi in realtà abbiamo avuto l'errore so che nella lezione che abbiamo fatto l'anno scorso molti avevano fatto questo errore cioè avevano messo lo script in un file che chiamavano come gli veniva ma in realtà così non funzionava e poi importantissimo questo due punti monobehavior questo due punti monobehavior descrive quali sono gli eventi a cui risponde che sono lo mouse down lo mouse up l'update in questo caso ma possono esserci di molti altri e dipendono da quello che c'è scritto qua dopodiché lo script praticamente qui perché non mettiamo il punte virgola alla fine di questa roba qua non lo mettiamo perché il perché il non è finito questo qui è solo la definizione cioè stiamo creando un nuovo cubo rosa ma cosa ci mettiamo dentro ci mettiamo dentro quello che è definito da questa graffa che si chiude qua vedete che ci sono tutte le cose e poi dentro questo contenitore ci mettiamo i suoi metodi quindi mettiamo un metodo on mouse down che qui non è finito perché il metodo è definito inizia qua e finisce qua e dentro il metodo ci mettiamo le singole istruzioni statement e ogni singola istruzione invece deve essere obbligatoriamente terminata quel punte virgola ok prima di andare di finire non posso volevo solo spiegarvi ancora una piccolissima cosa cioè nel senso che voi avete visto ad esempio che qui mi sono dannato a modificare la velocità no? tra l'altro io posso anche fare un'altra cosetta e fare l'equivalente cioè se premo A mi ha detto che va in alto ma se premo B ti possiamo dire che va in basso però avete visto che l'ho modificato e ho usato questo float no? questo float è la velocità con cui si muove ma conviene la bandese ho fatto un po' in fretta ma avete capito cosa ho fatto ho fatto una roba che con A va in su e con B c'è il meno quindi va in giù no? ho semplicemente fatto andare su e giù però vedete che c'è una ripetizione questo float 001 e float 001 è ripetuto conviene fare qua un float speed o velocità se volete uguale 1 vediamo un po' se ce lo prende sì dove prende no 0.01 0.01 e qui a questo punto e qui dobbiamo fare il float punto virgo ah no forse si arrabbiava per il punto virgo vediamo un po' così lo prende ah no non lo prende quindi dobbiamo proprio scrivere float e vabbè rompi scatole qui al posto di float 001 gli mettiamo velocità e al posto di questo float 001 gli mettiamo ancora velocità tanto vedete che me lo me lo vede quindi mettiamo velocità e quindi questo se lo facciamo girare facciamo il play di questa cosa play ho detto play facciamo A e facciamo B vedete che va su e giù e la velocità però vedete che magari non è molto convincente nel senso che potrei a qualcuno piace a qualcuno no allora la possiamo modificare questa velocità per modificarla in realtà la cosa migliore è quella di andare nello script e di mettergli semplicemente public allora questo public questo verbo fa una cosa miracolosa cioè lo fa comparire questo questo elemento compare praticamente dentro l'interfaccia di Unity cioè se io qua spengo e vado a vedere il cubo vedete che qui è comparso un velocità non so se la vedete velocità 0,01 allora qui tra l'altro il game qui gli avevo messo maximize on play invece magari teniamolo non massimizzato no e così riuscite a vedere che tra l'altro è il default quindi voi in realtà quando fate il play non vedete come prima l'intero schermo no ma vedete solo questo quindi vedete questo e poi faccio A vede che si alza e B si abbassa quindi peraltro forse ecco la velocità la potete modificare da qua quindi se qui 0,01 vi sembra troppo lento potete mettere 0,1 mentre siete qua e qui lui già già vedete che già ve la prende cioè ve la modificate senza dover andare nello script a modificarlo se invece vi sembra 0,1 troppo veloce potete rallentare il 0,001 e a questo punto qua se fate A vedete che diventa molto più lento cioè quella modifica che fate qua in questa plancia di comandi ha effetti istantanei sullo script anche se lo script è in esecuzione in quel momento questa è una cosa molto 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 interessante perché permette in molti casi di modificare dei dati mentre state progettando che è quello che è interessante e che piace a molti programatori per i ragazzini piace un sacco perché appunto potete modificare in tempo reale cioè potete vedere l'effetto che fa andare più o meno veloce e quindi ottenere più o meno un certo effetto quindi questo è il senso di aver messo il public dentro la dichiarazione qua di velocità ci sono domande su questa cosa ci sono osservazioni commenti vi piace vi sembra da parentesi io ho fatto un corso quasi identico anche su Godot l'anno scorso in cui facevo una cosa simile in cui facevo proprio vedere come come si muoveva un oggettino ora fra le due mi sembra che forse è un filo più più razionale Unity se il linguaggio era diverso che era un Python ma insomma siamo lì poi ognuno usa le sue tecniche però sono sostanzialmente sovrapponibili allora quando si mettono due parentesi tonde questa qua quando si mettono due parentesi tonde così dopo che i code a a questa cosa qua no questa serve solo per grammatica nel senso che qui c'è una if che vuole il corpo della cosa da testare che inizia con una parentesi e deve terminare cioè ogni parentesi in nei linguaggi cioè se voi aprite una parentesi graffa deve esserci la parentesi graffa finale vedete che quando mi metto su questa parentesi lui mi ha fatto venire in blu la parentesi che chiude se io vado su quest'altra parentesi vedete che è chiusa da questa parentesi graffa non ci possono essere cose che aprono e non chiudono quindi questa parentesi qua che è tonda invece deve essere chiusa qua in fondo e dentro abbiamo un input punto get key che c'è una parentesi e questa parentesi qua deve essere chiusa quindi praticamente qui abbiamo forse lo vedete meglio se lo scrivessi così cioè praticamente abbiamo un input get key qui gli passiamo key code a e tutta questa roba qua è contenuta all'interno della if cioè che si domanda quindi if aperta parentesi e che poi chiude quando finisce la if perché poi subito dopo deve partire la graffa un po' come le regole di grammatica che si usano nel linguaggio normale anche quello che parliamo cioè se facciamo se diciamo se usiamo singolare dobbiamo usare il verbo al singolare no? c'è uno cioè o se usiamo in inglese se usiamo he she dobbiamo usare la terza persona allora il den è sottinteso nel senso che nel linguaggio tipo c quando scrivete if dopo l'espressione che si sta testando è sottinteso che lì c'è il den non so se si possono mettere perché no vedete non si può mettere mentre invece l'else se ci fosse dovete scriverlo specificamente quindi si direbbe if quello sottinteso den altrimenti dovreste fare else e potete scrivergli un'altra cosa e se scrivo else allora il den non si scrive di solito normalmente non si scrive quindi ci sono poi dei programmi dove poi vedremo che si usa if den else ci sono altre cose comunque quello che abbiamo visto stasera quindi è creare un script che si usa il buono behavior abbiamo visto come creare un evento sarebbe espresso da vefor3 non so cosa vuol dire vefor3 comunque questo è un evento quindi succede l'evento l'evento inizia lì ah vector ma il vector 3 è tutto ciò che c'è tra i numeri quindi le posizioni rotazioni scale sono tipicamente a tre numeri e quindi abbiamo questo vector anche questo tra l'altro nel private e il contrario di public vuol dire che questa funzione qua non è visibile fuori da questo programma in questo momento ignoratelo diciamo che vuol dire semplicemente che è una cosa cioè private void in questo caso vuol dire che stiamo semplicemente definendo questa cosa vedetelo come una specie di boilerplate è come se stiamo definendo una funzione che è visibile solo in questo programma quindi è locale perché poi ci possono essere delle funzioni che sono visibili anche da altri programmi tra l'altro secondo me potremmo anche non mettere il private secondo me potrebbe funzionare uguale se io scrivo così e poi provo a lanciare il programma secondo me funziona uguale non ha dato errori di compilazione e qui faccio A va su e B va giù quindi non è essenziale addirittura non vorrei dire vediamo un po' se tolgo questo se tolgo e vedete così mi dà errore il metodo deve avere un tipo restituito quindi il void cioè che non tolga niente e il script per scrivere per fare uno script bisogna cioè per parlare in italiano tu devi conoscere l'italiano quindi per parlare in realtà devi conoscere una lingua e la lingua è quella che ti permette di parlare come fai a sapere che ci va Flot lì? e lì va tutto se tu non gli avessi messo Flot vedi che lui si incazza e lui si dice non è possibile convertire in modo implicito il valore letterale di tipo double perché per lui 0,01 è un double a usare un soffisso f vabbè allora mettiamogli l'f se gli mettiamo f lui è già felice di più ma in realtà l'ha scritto lui cioè io ho seguito in realtà 001f è un modo io che vengo anche da altri linguaggi so che per cambiare il tipo basta metterci un float davanti che è il tipo però in effetti si fa prima a metterci la f prima ci avevo provato a mettere la f solo che gli avevo messo la f minuscola invece lui io ho semplicemente seguito quello che mi ha scritto lui qua dice usare un soffisso f per creare una valore letterale di questo soffisso vuol dire metterglielo in fondo ah per inciso anche questi vector 3 qua min e max potevo metterli come come variabile quindi questo qui è il minimo quindi facciamo min qui facciamo un public vector 3 no? di min uguale new vector 3 e poi facciamo un il max di max vector 3 li mettiamo di 2 2 2 e quindi li mettiamo il max qui ho semplicemente messo il parametro di quanto deve essere grande e quanto deve essere piccolo a seconda di se ho premuto il tasto o no se a questo punto faccio girare questo programmino e clicco vedete che si aumenta e si decrementa però non so se state notando qualcosa sulla colonna destra state notando qualcosa sulla colonna destra che qui apparsi sono apparsi praticamente in ordine alfabetico tutte le cose che sono state dichiarate pubbliche quindi se io qui dico che il max ha la x anziché la 2 li mettiamo a 4 e quando lo clicco vedete che lui ha già allargato la x oppure qua se invece il max invece di 1 di 2 2 2 lo mettevo 1,2 1,2 e 1,2 e qui lo clicco vedete che si ingrandisce solo del 20% e qui potete vedere esattamente di quanto di quanto si modifica il parametro senza dover andare sullo script perché poi andare sullo script è sempre un po' antipatico soprattutto se lo date a una persona che non sa scriptare molto bene e quindi conviene in realtà minimizzare la quantità di cose che gli fate fare infatti lo script lsl ad esempio è brutto da quel punto di vista perché non è una cosa simile cioè non è possibile avere dei parametri configurabili fuori devi per forza entrare dentro lo script il che spesso diventa un po' un massacro e invece qui diciamo che siamo a un livello ripeto di programmazione e di scripting decisamente molto più alta qui siamo proprio a un livello professionale e non è detto che il professionale sia difficile in senso assoluto nel senso che è uno script del genere sarà anche brutto da vedere forse ci impiega un po' di tempo ma insomma non è neanche impossibile cioè siamo sono poche righe ok allora se siete d'accordo io chiamerei la lezione conclusa come vi ho detto prima vi risparmio compiti per questa volta ma se volete comunque giocarci se avete tempo e voglia se è venuto il video ve lo pubblico non appena posso quindi potete rivedere la lezione se vi interessa e poi ditemi iscrivetemi nel gruppo se ci sono ulteriori dubbi e se volete fare altre cose ovviamente teniamoci sempre sulle cose semplici quindi a me la cosa interessante era solo di fare un click e di far comparire e di far avvenire qualcosa la prossima volta magari faremo poi uno script tipo questo con l'idea di riuscire a vedere negli effetti anche vedere negli effetti anche sul visore 3D sul sull'Android l'unico click che abbiamo è un click solo cioè che praticamente si si inserisco poi tutto adesso non so se ce la faccio di stasera ma entro entro qualche giorno ci saranno tutti tutti gli script e il video pubblicati pubblicati nel frattempo lo script ve l'ho detto che c'è quel pastebin quindi ve l'avevo scritto prima e ve lo ridò adesso questo qui quindi non avete bisogno di tante cose perché ce l'avete già qua lo ridò adesso qua quindi ce l'avete tutto ok e vi ricordo ancora quindi domani sera per le escape room e poi ci sarà un lungo periodo in cui faremo tutte le escape room poi credo o forse no adesso vediamo che ci sarà poi forse ancora un incontro di blender la settimana prossima e si va avanti e cerchiamo comunque di essere tranquilli insomma cioè non è che vi chiediamo di ammattire va bene allora buona notte a tutti e ci sentiamo stop share Grazie.